Ogni santuario d'Europa ospiti una famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma. È l'appello di Papa Francesco che dopo aver recitato l'Angelus ha richiamato l'attenzione sulla tragedia di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame e sono in cammino verso una speranza di vita. Il Vangelo ha detto, ci chiama, ci chiede di essere prossimi dei più piccoli e abbandonati a dar loro una speranza concreta. La speranza cristiana è combattiva, ha proseguito e con la tenacia di chi va verso una meta sicura. In prossimità del Giubileo della Misericordia, Papa Bergoglio si è rivolto ai fratelli Vescovi d'Europa, veri pastori, perché nelle loro diocesi sostengano questo suo appello ricordando che Misericordia è il secondo nome dell'amore. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Anche le due parrocchie del Vaticano accoglieranno in questi giorni due famiglie di profughi. Che io ricordi è la prima volta in assoluto che un Papa, nel campo della solidarietà, faccia una proposta così precisa e puntuale a tutte le parrocchie di tutta Europa. Per cui non saremmo credibili se non prendessimo fino in fondo sul serio la sua richiesta. A livello locale che cosa si fa per accogliere queste persone? Ma già ci sono delle piccole iniziative. Domattina ci vedremo alle 10 con il Vescovo, i sacerdoti, i vicari zonali. E il Vescovo sicuramente ci darà delle linee in comunione con gli altri Vescovi d'Italia. Delle idee sono già in cantiere. Ma è molto importante che tutta la comunità, tutti i battezzati, praticanti e non praticanti, in queste ore possano incoraggiare i loro sacerdoti a prendere iniziative coraggiose. Perché senza un incoraggiamento dalla base è difficile poter poi prendere delle iniziative che devono tenere insieme il bene della città, la cura della nostra povera gente e un'accoglienza generosa di questi rifugiati come ormai l'Europa ci sta insegnando. Quello che è accaduto in Austria è stato un segnale forte? Sicuramente. Questo ci fa capire che dal basso è possibile veramente ritrovare quell'Europa solidale che ancora esiste nel profondo delle nostre nazioni. e credo che dovremmo ammirare molto e trovare incoraggiamento da quegli uomini e le donne che hanno preso le loro macchine per andare a raccogliere i rifugiati. In fondo di lì è cambiato qualcosa in Europa. Penso che anche noi in Italia, accanto al tanto che già si fa, potremo anche a livello di quartieri, di città, prendere esempio e pensare iniziative profetiche e coraggiose.